ciao a tutti ragazzi spero siete in forma ok in questo nuovo video parlerò con gli automobilisti se non è ancora una patente questo potrebbe aiutarti nella ricerca di regali di natale o di compleanno i prodotti qui sono tutti eccellenti super qualitativi e mega pratici che si tratti della salute del tuo veicolo della registrazione video in modalità di bordo della sicurezza o della ricarica del tuo smartphone questo nuovo video promette di essere ricco di tecnologia al di là di ciò ho notato che i gadget per auto sono prodotti che amate quindi non esitate a suggerirmi uno o più gadget che vorreste vedere nel mio prossimo video è molto probabile che altri parti superiori in quest'area troveranno il libro nel posto del canale quindi divertitevi forza amici restate con me per seguire la presentazione dei 5 gadget high tech che utilizzeranno i conducenti andiamo questo gadget è una delle dash cam più pratiche e intuitive tuttavia la dd pay non è la prima fotocamera per cruscotto ma è sicuramente la migliore l'x2 si riferisce al fatto che esiste una seconda fotocamera che registra la vista attorno in l'onotto sebbene sia possibile incollarla in un'altra finestra dd pay è stato creato da 8 ingegneri huawei e l'x2 pro utilizza i processori high silicon di huawei in entrambe le fotocamere l'obiettivo ruota in modo da poterlo regolare per ottenere la migliore visione possibile l'intero dispositivo è facile da rimuovere dal supporto tranne per il fatto che due cavi si collegano ad esso uno è per l'alimentazione viene fornito un cavo da 3,5 metri con un connettore micro usb l'altro per la fotocamera posteriore l'altro componente è un pulsante wireless che è possibile attaccare in un luogo appropriato alla portata del conducente inoltre il kit include una scheda micro sd da 32 gigabyte ma che supporta fino a 128 gigabyte ovvero 96 in più rispetto alla maggior parte di questo tipo di dispositivo l'interfaccia principale è tramite l'app disponibile per android e ios connettiviti via wifi e x2 pro per rivedere e scaricare video e foto sono una cosa più semplice da fare infine non è necessario impostare la data e l'ora come avviene tramite gps l'adattatore diagnostico di bordo obd fixed è un modo economico per aiutarti a capire cosa succede sotto il cofano della tua auto e ricordarti gli articoli di manutenzione dopo aver scaricato e installato l'app ios o android è necessario registrarti a fixed se non si è sicuri su dove collegare l'adattatore l'applicazione può inviare un'email al team di supporto per rispondere con la posizione della porta in pochi secondi l'app trova l'adattatore obd e crea automaticamente un collegamento bluetooth tutto è semplicissimo non ci sono numeri da inserire o a capiamento manuale il raggio di azione del dispositivo è di 15 metri il che è più che sufficiente per immergere la testa nel vano motore mentre si contuntano dei dati diagnostici del telefono esistono anche categorie di tipo dettagli per codici di errore e spiegazione cronologia per i dettagli di manutenzione e cronologia per il registro degli eventi Nonda ZUS Smart la Nonda Smart Dash Cam è una dashboard senza schermo registra solo e usi lo smartphone per visualizzare ciò che hai fatto innanzitutto installa e avvia l'app ZUS vedrai 6 schermate introduttive con funzionalità tra cui una che ti chiede di accedere quindi devi solo accedere con Facebook o creare un account con l'indirizzo email quindi aggiungi la videocamera all'app e una volta connesso premerai il pulsante della fotocamera per attivare la modalità wifi collegare un telefono e una volta connesso puoi aggiungere il tuo dispositivo la fotocamera stessa ha una vista di 140 gradi e registra in 1080p ha anche rilevamento automatico delle collisioni per salvare automaticamente i file in caso di impatto tuttavia la scheda SD non è inclusa le impostazioni della fotocamera includono la possibilità di attivare e disattivare la registrazione del suono il tempo di registrazione, il tempo della filigrana, la sensibilità alla collisione, la data e l'ora del dispositivo per non parlare della prevenzione scarica della batteria e la gestione della microSD infine l'app Nonda Smart Dash Cam si chiama ZUS Smart Driving Assistant nel caso in cui non riesca a trovarla si collega la fotocamera ad altri dispositivi Smart Nonda opzionali per la tua auto come una telecamera posteriore, un monitor della pressione degli pneumatici e un indicatore dello stato del veicolo Stilus Stinger se sei convolto in un incidente e ti trovi bloccato in una cintura di sicurezza o in un auto in fiamme questo strumento potrebbe salvarti la vita lo Stinger sembra un comodo gadget per il tuo veicolo in quanto non solo ti consente di caricare due dispositivi USB contemporaneamente ma anche di liberarti se rimani bloccato in auto puoi usare lo Stinger per rompere uno dei finestrini laterali e tagliare la cintura di sicurezza si adatta alla porta da 12V del veicolo e a due port USB un rompivetro caricato a molla e una lama che può dividere le cinture di sicurezza e altri materiali è un esclusivo strumento di evacuazione e di emergenza brevettato che può essere integrato nella vita di tutti i giorni inoltre il punzone del finestrino a molla funziona facilmente e rapidamente per offrirti le migliori possibilità di uscire dal tuo veicolo inoltre lo Stinger romperà solo il vetro temperato non è progettato per rompere parabrezza o il vetro stratichifato inoltre il gadget viene normalmente fornito con una lama affilata per aiutarti a tagliare la cintura se non riesci a rilasciarla normalmente ciò è fantastico perché è multifunzionale e consente di essere portato comodamente nella macchina caricatore Zeeho Scenario Fai un lungo viaggio con la tua auto e all'improvviso scopri che lo smartphone si sta esaurendo bene avere un caricabatterie per auro wireless a portata di mano che terrà il tuo telefono e che lo proteggerà da urti sulla strada contemporaneamente non può che non essere rifiutato questo è il caso di questo gadget infatti è dotato di funzionalità aggiuntive perché non contiene solo il caricabatterie wireless che stai cercando ma anche un supporto per il telefono combinando la ricarica wireless con il montaggio del telefono e ti consente di sbarazzarti dei cavi che ingombrano il tuo cruscotto il prodotto viene fornito con un caricabatterie USB-C con un connettore simmetrico circolare che consente di caricare gli smartphone più velocemente rispetto ai concorrenti del mercato basta collegare il tuo smartphone iOS o Android e sarà completamente carico in pochissimo tempo inoltre il caricabatterie è approvato Qi e consente al prodotto di alimentare da 7,5 W fino a 10 W sul telefono o su altri dispositivi inoltre i pulsanti touch intelligenti e gli indicatori LED sono lì per fornirti aggiornamenti di ricarica regolari di conseguenza puoi non solo conoscere la destinazione della mappa di Google ma anche prolungare la durata della tua batteria e non è tutto il dispositivo si adatta ad una solida ventosa per catturare potenziali cadute e montare il prodotto sul cruscotto pertanto il montaggio della ventilazione e le robuste ventose offrono la migliore protezione contro le cadute ad alta velocità o in caso di impatto sulla strada garantendo il primo posto per il caricatore questo fantastico gadget si adatta automaticamente al dispositivo che si tratti di un iPhone XS, XS Max, XR, X, 8, 8 Plus o di un Samsung Galaxy S10, S9, S8, S7 Plus, S7, Note 9, 8 o semplicemente qualsiasi altro smartphone ecco strada garantendo la complessazione conoscere la scuola a scuola a scuola, FUN, XS, X, Urbanire, S7, S7, S8, 3, 9 o semplicemente ecco per oggi è tutto spero che il video ti sia piaciuto e se così dovesse essere ti ricordo di mettere mi piace iscriverti al canale attivare la campanella e farmi sentire la tua nei commenti alla prossima